In Sardegna la pressione fiscale complessiva è pari al 59,7%, in diminuzione dello 0,5% rispetto al 2018, ma la tassazione alle città sarde continua ad essere superiore alla media italiana. La pressione del fisco diminuisce nell'isola, soprattutto a Nuoreo e Oristano, mentre a livello nazionale Bolzano è il comune più virtuoso con una pressione fiscale del 53%. La Maglia Nera invece spetta a Reggio Calabria col 69,8%. Quanto si evince da una proiezione per l'anno in corso, elaborata da Comune che vai, fisco che trovi 2019, il rapporto annuale dell'osservatorio CNA sulla tassazione delle piccole e medie imprese. Quanto alla Sardegna, Sassari continua ad essere la città più tardassata, con una pressione fiscale del 63,9%. Un reddito d'impresa di 50.000 euro al netto delle tasse si assottiglia a 18.044 euro. Un imprenditore sassarese pertanto deve lavorare fino al 20 agosto per pagare il fisco. Seguono Olbia, Cagliari, Nuoreo e Oristano. Secondo la CNA, la pressione fiscale in Italia è tornata quasi al livello 2011, quanto era al 59%, grazie all'innalzamento del 50% della deducibilità IMU sugli immobili strumentali introdotta dalla legge di bilancio 2019 su pressione in particolare della CNA. Nonostante i miglioramenti riscontrati, nell'ultimo anno le piccole imprese sarde continuano ad essere tra le più tardassate in Italia e debbano lavorare gran parte dell'anno per pagare l'erario, sottolineano Pierpaolo Piras e Francesco Porgo, rispettivamente Presidente e Segretario regionale della CNA. Si tratta di un livello di tassazione che limita i processi di crescita e consolidamento dei sistemi di impresa, un vero e proprio macigno sulla strada alla convergenza con le aree più sviluppate del Paese. Per far ripartire l'Italia è necessario aprire una stagione in cui si superi la logica degli interventi emergenziali e scoordinati e si definisca un progetto di sviluppo del Paese per i prossimi anni, individuando obiettivi e drivers di sviluppo, concludono Piras e Porgo.